Lei sa quanti sono i candidati a sindaco a Sanremo? Sì, sono sei. Conosce qualche nome? Biancheri? Il grande? Basta. Non lo so. Penso tre, penso. Ma credo siano parecchi, dovrebbero essere cinque o sei. Possiamo fare anche dei nomi. C'è Sergio Tommasini che è lo sfidante del sindaco uscente Biancheri. Lei sa quanti sono i candidati a sindaco a Sanremo? Non so proprio, non mi interessa. Cosa dico? Sette? Lei sa quanti sono i candidati a sindaco a Sanremo? A maggio andiamo a votare? Non lo so quanti sono, non lo so. Sono distratto per le votazioni perché sono uno di quelli che non va a votare. Penso che i due sono i più accreditati. Ma ci sono altri nomi però? Ci sono altri nomi ma penso che non servono a niente. I due sono loro, uno l'altro vince. Mi pare che sia quattro o cinque, no? C'è anche una donna. Lei sa quanti sono i candidati a sindaco? Le ricordo che a maggio Sanremo vota per la scelta? Eh, no. Non sa quanti sono? No, no, completamente. Non so aiutarla. No, 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 non lo so. Non sono di Sanremo io. Non lo so veramente. No. Non ha neanche un'idea. Non mi interessa niente. Politica non mi interessa proprio niente. Io ho due, quelli che sento in giro reclamizzati. Ci sono di più? Ah no, c'è anche, è vero, c'è anche Alessandro Condò. Io tutti non ne conosco altri. Credo mi pare cinque. Ci sono avvicinati. Ci sono avvicinati, sono di più. So che c'è l'Avvocato Pezzini, so che c'è Tomasini che qui vediamo, una signora, mi pare, Rigoni della Re, e poi uno del, mi pare, Turbe che si chiami del partito. Sono già cinque che ne ho detto, ce n'è di più. E non ne so altri. Non lo so perché io sono di Torino, quindi non lo so.